Noi abbiamo le idee chiare in materia di urbanistica, quindi metteremo mano subito al piano regolatore generale, al piano particolareggiato del centro storico e ai piani di recupero, cioè tutte le zone periferiche, le 24 ex zone di recupero. Crediamo che in questa zona periferica, anche attraverso la lista di pericentro, vogliamo dotare tutte le contrade quando meno di servizi essenziali, ovvero acqua e fognatura, pubblica illuminazione e marciapiedi e su questo pensiamo di riuscire a farlo sia con fondi comunali che con fondi extracomunali. In materia di centro storico invece la situazione in questo momento è drammatica perché si vive un momento di quasi desertificazione, ovvero di gente che va via, c'è una forza centrifuga che spinge verso le periferie. Noi abbiamo la ricetta per ritornare a fare vivere in centro, partendo dalle giovani coppie, stop, volume zero per costruzioni all'esterno della città rispetto a quello che già c'è in corso e invece all'interno della città crediamo in queste famose STU, ovvero società di trasformazione urbanistica, la rigenerazione del centro, proprio da qui parte, non basta più il demolire e ricostruire che ancora non abbiamo, ma che comunque metteremo in campo delle piccole casette da 30 metri. Quindi vogliamo standard abitativi più moderni, ci sono le normative che oggi in parte lo prevedono, in parte attraverso la nostra deputazione regionale, abbiamo un deputato della città di Racusa che è Nello Di Pasquale che sta lavorando su questo, metteremo in campo quello che serve da un punto di vista legislativo per cercare di recuperare non solo le mura delle case e quindi creare case abitabili rispetto a quelle che oggi ci sono, ma vogliamo anche creare un tessuto sociale, una parte dell'urbanistica vera, ovvero il negozietto di vicinato, la farmacia, il supermercato, il fruttivendolo, quello che serve. Vogliamo anche creare un grande mercato all'interno della città come c'è nelle città più moderne, un mercato giornaliero che possa dare la possibilità a tutti di avvicinarsi al centro storico e soprattutto anche di viverlo e magari perché no, di risparmiare qualcosino rispetto alle grandi catene di supermercati che magari spesso hanno dei prezzi diversi, è un modo come un altro per avvicinare le persone, su tutto questo ci darà una mano la cosiddetta metropolitana di superficie su cui stiamo lavorando, noi ci pensiamo dai tempi, non dai tempi di Giorgio Chessere, abbiamo coltivato via via con Solarino e di Pasquale, oggi è una realtà finanziata per 18 milioni di Euro dal Governo nazionale che collegherà Ragusa-Ibla con Ragusa Superiore, con il Castello di Donna Fugata e sul nostro programma una novità vera, una novità importante, è quella che vogliamo creare un minario che arrivi fino a Marina di Ragusa, in modo tale da mettere in collegamento attraverso una rete ferroviaria tutta la città partendo dal turismo balneare a quello enogastronomico, a finire al turismo culturale, ovviamente su questa linea possiamo collegarci anche da una parte con l'aeroporto di Comiso e dall'altra parte con tutto Val di Noto, questo va fatto in sinergia con gli altri sindaci dei comuni vicini e su questo garantiamo una sorta di conferenza dei sindaci della Val di Noto, con tutti quelli che lo vorranno fare, con una città come quella di Ragusa che sia punto di riferimento, regia e baricentro di una zona, il sud-est della Sicilia, importante per lo sviluppo dell'intera Sicilia.